Roma dove sei, eri con me, oggi prigione tu, prigionierei io, romantica città, pura vecchia realtà, non ti accorgi di me, però sai che pena mi fai. Ma piove il cielo sulla città, tu con il cuore nel fango, oro e l'argento. Prendi la parola, la parola a quelli di quelli che si imporano, editore di Roma. La convitanza che è uscita del libro di Jose Barroini, il figlio del venditore di Sorbus, il figlio del venditore di Sorbus, il figlio del capitale di Roma. Presentiamo anche il libro di Anna Montella, la stagione di vento, in cui la copertina è stata curata da... Non solo è stata curata, è stata anche tenuta in caldo, e poi c'è stata la presentazione, una specie di recensione per il suo lavoro. Certo, che dire, anche questo è l'inizio di pensieri e parole, quindi come tutti i nostri libri, una percentuale va in beneficenza la produzione di storia e la speranza. Niente, due parole stagioni dall'autrice. Lei l'ha scritto? Lei l'ha scritto? L'ha scritto? L'ha scritto? Balletto! E va bene, due parole! Balletto! E niente, la stagione di mezzo è quella stagione particolare, quando non è più estate, però non è ancora, e si torna un po' indietro del tempo per recuperare il tempo per tutto, e magari anche avventurandoci su un allegorico sentiero di matematica. Mi fermo qui. Pura vecchia realtà, non ti accorgi di me, e non sai che pena mi fai. Ma piove il cielo sulla città, tu con il cuore nel fando. L'oro e l'argento ne sale da te, pare se che non ha più campanelle.